e così non ho mai parcheggiato neanche io però sopra il burrone hai gridato spanti come il mio stai lì che io provo alzarla di qua tanto è agganciata con la cosa io qua la tengo eh però tenetela un po' non so dove è ingrippata il manubrio no è la cosa aspetta è la pedana in una gradiglia ma va io pensavo che eri caduto te perché io seguivo te e poi a un certo punto io non dovessi più arrivare voi due io ero là a liberare il pezzo là io mi sono fermato a liberare sotto eh caro mio in una maniera un po' strana ho scappato e ho messo giù il piede non ci arrivo io pensavo che eri anche te con lui adesso ti lo risgavezza andare in giù che ti si riscalda basta dopo ti passa mi sembra più peggio del tono adesso quando vai in giù lo scaldi riprende è come me questo che non andava più ma tu eri qua con la moto o eri proprio giù giù? si no ma adesso tu sei arrivato giù lungo tirato lungo tirato la faccia in giù ma va che poi io ero lì sopra lì ti ho visto te andare a manetta a piedi ho detto che cazzo ho trovato un animale perché non si vedeva niente qua si un animale lui è un animale cioè ascolta comunque in piano il bello è che da lì tu non hai niente io non vedevo non lo vedevo io spampi a cadere in piano sei solo te che puoi cadere in piano e basta certo certo in piano puoi cadere solo tu perché non c'è niente è solo il corpo davanti lì ho messo giù il piede solo che era vuoto e te li devi guardare e quando ho fatto giù il f***o io ho fatto rampone ma no e poi al bivio puoi andare di sopra puoi andare a destra o a sinistra su un lato dritto bravo ho fatto rampone col campione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti